Due giorni a tutto vintage tra fashion e grandi firme. Dopo due anni di stop a causa della pandemia è infatti tornata a Rezzo Selezione Vintage con circa una trentina di selezionati espositori di abbigliamento e accessori d'epoca provenienti da tutta Italia. Dopo due anni, dall'ottobre 2020, abbiamo riproposto questa manifestazione che ormai si tiene da diversi anni e che è un appuntamento per tutte le persone che sono interessate alla riscoperta di vecchi prodotti, vecchi stili del vintage in generale. L'evento, come sempre, si è svolto in concomitanza con il weekend della Fiera Antiquaria. Noi riproponiamo all'interno della Fiera Antiquaria questa piccola manifestazione di nicchia che c'è dentro la fraternità dove ci sono le cose firmate, in generale quelle più di qualità. Invece a Chiostra abbiamo più, diciamo, anche la ginseria, l'usato, il prodotto più da tutti i giorni. Tra le novità di quest'anno, infine, uno spazio dedicato all'arredamento. Nel anno inseriamo qualcosa di nuovo, ci sono le macchine fotografiche una volta, i mobili l'altra. Questi sono mobili rieditati, rimaneggiati, riproposti con tessuti particolari, con il legno sverniciato e lasciato grezzo. Insomma, molto divertenti.